Enrico Montesano nasce a Roma nel 1945, inizia come geometra, poi attore comica nei Night, infine il cabaret che diventa il trampolino per la tv, cioè il grande successo. Nella sua vita tanto cinema, con tettacchia, febbre da cavaglio, lo solo per citare due film. Tanto teatro, Rugantino il più amato, ha fatto anche politica pare pentendosene. Una carriera mitica, alcuni personaggi sono nella storia del cinema. Buonasera Enrico e benvenuto. Buonasera, grazie. Io vorrei partire dalla sua carriera e quindi da questa foto, questo è lei molto giovane. Senta, tra le mille cose meravigliose che lei ha fatto, c'è in carriera, c'è Rugantino in teatro. Al suo debutto c'era un Rugantino in platea, Nino Manfredi, e al cinema aveva il volto di Adriano Celentano. Sia sincero, facciamo come se fosse 007, qual è stato il miglior Rugantino? Credo quello che ho fatto io. Devo essere sincero. Modesto. Anche un po'... Ma io penso che arrivata alla mia età, essere la falsa modestia è fastidiosa come la superbia. No, io dico che forse per Garinei mi scelse, avevo l'età giusta, il fisico giusto, e forse non è stato tanto merito mio. Però Manfredi è sicuramente... Lei è più bravo di Nino Manfredi o no? No, sicuramente Mino è stato il più bravo di tutti, adesso a parte gli scherzi e le provocazioni. Però io purtroppo non l'ho visto. Io l'ho visto fatto invece straordinariamente bene da Tony Ucci, che sostituì Nino Manfredi. Ed era un Rugantino, come si dice a Roma, giugiolone. Senta, e Celentano com'era al cinema? E qui sono d'accordo con Fabrizi, era impossibile per noi romani vederlo, ascoltarlo. Però Adriano è una tale simpatia per noi, no? Sì, sì, simpatico, simpatico. Però io ricordo che lei in un suo spettacolo, disse di lui, Celentano ha detto che donerà il suo cervello e chi se lo piglia? Come nasce? È una battuta o c'è un fondo di verità? Lei lo pensa? No. E Petrolini diceva, meglio perdere un amico che una battuta. È chiaro che la battuta a noi non ci rinunciamo mai. Certo. Invece io ho lavorato poi con Adriano, qua la mano, in Sing Sing, e Adriano era un uomo intelligente, molto umano. Io mi sono trovato molto bene con lui. Sì, sì, però lei ha perso molti amici per le battute, immagino. Ma qualcuno sì. Non erano amici allora, perché non avevano il senso dell'umorismo. I nomi, i nomi, chi si è offeso, che si ricorda. Questo non me lo ricordo. Mi ricordo chi non si è offeso. Il senatore Andreotti mi mandò dei bigliettini firmati facendomi complimenti, anzi dicendomi se ha bisogno di una spalla, sono a disposizione. Io dissi, ma un comico come Andreotti? Senta, Rugantino ricordo che però è stato interpretato anche da Valerio Mastrande con Sabrina Ferilli. Di Mastrande alla Ferilli cosa pensava? Io non l'ho visto, quel Rugantino là, proprio. Ho preferito non vederlo. Parlando di belle attrici. Anche se Sabrina immagino che fosse molto giusta per Rosetta. Appunto, dicevo, parlando di belle attrici, questa è Veronica Lario. Ah sì? Nel 1983 lei fa un film con la Vermoulle e recita con Veronica Lario la futura signora Berlusconi. Intanto, come attrice com'era? Brava. Brava? Bene, sì, brava. E come donna? Molto seria. A parte il fatto che lei stava a casa di Lina Bertmulli, era quasi segregata. Perché venne Berlusconi, il cavaliere, venne sul set e mi dice, mi raccomando trattamela bene. Venne con Mario Cecchigori, mi ricordo, babbo. E loro erano, la loro storia iniziava, insomma, quindi c'era tutto intorno, insomma, la tenevano un po', quasi, veramente la tenevano quasi un po' segregata. Però lei è stata una compagna di lavoro molto seria, molto professionale. Senta, a proposito Berlusconi, lei l'ha mai votato? Credo sì, una volta. E allora parliamo di politica. Me ne so pentito però. No, ma allora parliamo di politica. Ma quanti di noi votano e poi se ne pentono? Tanti. Sa perché? Tutti, anzi. Perché noi italiani, penso molti di noi, sperano sempre che votando quello risolva un po' le cose e le cose si migliorino. E invece non succede quasi mai. Allora, e allora parliamo un secondo di politica. Cioè per me che venivo dalle file dei giovani socialisti. Esatto, vorrei capirla, la sua carriera e le sue delusioni. Ma io non mi sono mosso, se sono mossi i partiti, io sono rimasto sempre delle mie idee. Consigliere comunale di DS con Rutelli, giusto? Sì, ho aiutato Francesco Rutelli a diventare sindaco. No, no, fermi, fermo, la ricostruisco brevemente. Prego, prego. Sì, è corretto. Europarlamentare DS, poi però contro Veltroni lei ha appoggiato Tajani come sindaco di Forza Italia e poi è stato vicino alla destra di Gianfranco Fini, poi nel 2013 ha dichiarato di aver votato 5 Stelle. Oggi, se posso chiederlo, cosa ha votato alle ultime elezioni? 5 Stelle. E allora ricominciamo da queste delusioni. Questo è Walter Vettroni, una serie di sue battute. Erperlana dell'Ulivo, il candidato con l'Amborbidente, cuore di panna, questi sono i nomignoli che aveva inventato. Perché ce l'aveva con lui? A me mi ha deluso Vettroni un po', perché non era più quel giovane funzionario che alle botteghe oscure parlava di cultura e poi invece un po' mi sembra che si è perso. Anche se lui per carità è un uomo di letture, di buone letture, ha questo amore per il cinema. Poi però... Ma sono stati un po' ingrati, ecco, questo mi... E poi insomma, era stato un po' un sindaco virtuale, tagliava i nastri. Un po' ingrato in che senso? Un po' ingrato in che senso, sì. Un po' ingrato perché doveva tenere presente che nelle periferie romane, come Rutelli per esempio, ci sono andato io a prendere i voti. Non ci sono andati certi miei colleghi che poi hanno avuto in dono dei teatri? No? Sì, ma è mancata di riconoscenza anche nei suoi confronti. Cioè, cosa si aspettava? Cosa si sarebbe aspettato? Beh, che se tu ti spendi, ti dai, ti impegni, che si riconosca. Se invece poi... Come per esempio un incarico, un ruolo... No, ma io non è che volessi incarichi, perché io quando ho pensato di poter dare una mano al nostro paese, alla mia città e al nostro paese, ero già un attore conosciuto e famoso. Certo. C'ho solo rimesso. Certo. C'ho solo rimesso. Perché un impiegato, un maestro elementare che va al Consiglio Comunale e gli danno il gettone di presenza, no. Ne somma 4-5 a settimana fa quasi più dello stipendio che prende. Questo capisco benissimo. Per noi è partita IVA, è una rimissione. Però cosa si aspettava? Più telefonate, più ruoli di decisione? Un riconoscimento anche così ideale, anche un riconoscimento non pratico, non è che volessi un incarico. Però essere considerato, uno viene interpellato. Insomma, lei ha avuto l'impressione di essere stato usato. Ma come tutti gli altri, io già lo sapevo. Però speravo che fosse usato un po' meno. Invece vieni usato e... Mi interessa molto questa parte della sua carriera e del rapporto con la politica. In maniera troppo sfacciata. Cioè, usatemi, lo so che mi usate. Però poi però, se c'è da sapere qualcosa, mi fai una telefonata e mi chiedi un consiglio. Oppure mi dici, ci puoi dare una mano a fare questo. Invece no. Si seguiva anche un po', quello stava sulla cresta dell'onda, allora chiamiamo quello. Però quello io non ho mai visto in periferia parlare qua a gente. Senta. A pietralata, il vero popolo romano di sinistra. Lei lo sa cosa diceva Rino Formicata della politica? Che è? Sangue merda. Eh, quella è. Infatti. Senta, questo è un altro sindaco con cui lei ha appoggiato. E poi però, a un certo punto, lei decide di appoggiare le mani. Anche lui è un ingrato? Io l'ho aiutato a diventare sindaco di Roma, gli ho portato 8300 preferenze, non gli ho chiesto niente e lui nominò come consulente per le periferie Maurizio Costanzo, con tutto l'affetto e la simpatia per Maurizio che è un grande giornalista, un grande uomo di cultura e di intelligenza, però io al Trullo, a Montecucco, a Corviale, non l'ho mai visto. Ma non era forse che Costanzo gli garantiva buoni rapporti come Mediaset e Berlusconi? Certo, però lui non doveva dimenticare i compagni che l'avevano aiutato. Senti, lei però è stato anche erodeputato, ma si è dimesso prima di maturare la pensione. È una cosa un po' straordinaria, perché? Sì, perché ho capito che era completamente inutile. Io sono stato attaccato dicendo che ero l'attore miliardario che desertava il Parlamento, non sapendo i due autori di quella vignetta che fecero trovare a Strasburgo, al capogruppo del Partito del Socialismo Europeo, che valgono solo le presenze quando c'è la plenaria. Quelle in commissione non valgono, però le cose si fanno in commissione. Quindi io mi alzavo la mattina alle 5, perché io faccio l'attore. Non posso stare fuori quattro giorni se sto facendo un film o una fiction? Fiction, come si dice in italiano. È vero che l'avrebbe dovuto sapere prima, però questo non è il punto. Il punto è chi ha ucciso la sinistra in Italia, secondo lei? Nome. Trovare l'assassino è sempre molto difficile. Più Renzi o più D'Alema? Ma diciamo che hanno cominciato loro. Con D'Alema? Sì, e poi dopo. Ed è finito l'altro? Beh, Renzi gli ha dato il colpo di grazia, penso. Parliamo di quelli nuovi. Questo è Matteo Salvini. Intanto cosa pensa di lui? Io spero che adesso diminuiscano un po' gli annunci quotidiani, perché se va bene fare un annuncio per stare a essere presenti sui media, però dopo un po' il troppo stroppia, come si dice. Assolutamente. Ma secondo lei è un razzista, come dicono in molti, o fa solo gli interessi del Paese in maniera un po' vigorosa? Io non credo che lui sia razzista, come non credo che lo sia nessuno di noi italiani, perché io quando vado dal mio panettiere, ci sono due ragazzi neri che fanno il pane, sono degli amici, scherziamo, parliamo, e io li ammiro molto. Non mi piace, come dice Salvini, una accoglienza acritica, Tucur, perché poi non è accoglienza, perché se li abbandoniamo sotto i ponti dove non hanno un bagno, dove non hanno un lavoro, quindi grossomodo sto dicendo le cose dei Salvini. Ma lei conosce le periferie, secondo lei perché appunto nelle periferie si vota tanto Salvini? Perché viverci a contatto diventa difficile, è bello dirlo a parole, però mettiti vicino uno che tutti i giorni cucina l'aglio forte forte e t'entra dentro casa. Cioè poi è difficile, cioè l'integrazione è a parole molto bella, ma poi nella pratica, quindi... Una nave di profughi, la facciamo attraccare e scendere oppure la rispongiamo? Ma perché in Australia la riforniscono, gli danno tutto quello che devono avere e la rimanda indietro? Gli australiani sono cattivi, sono dei razzisti? Quindi non li facciamo attraccare, ma pensiamo all'altro, Beppe Grillo, quasi un suo collega, anche se non ha fatto l'attore così bene come ha fatto lei. Eh però Beppe è molto spiritoso, intelligente, a me mi diverte. Senta, cosa pensa della sua avventura politica? Io lo trovo straordinario, senza arrogarmi meriti, ma io sono stato un Beppe antelitteram, perché quando facevamo le feste dell'Avanti, poi dopo la disgrazia di Mani Pulite, di Pietro... Una disgrazia oppure... Una disgrazia perché ha distrutto i partiti storici. Certo, però obiettivamente l'ha messo anche Craxi quando andò in Parlamento, ci finanziavamo in maniera illegale, c'erano tanti episodi di corruzione, di ricatto, eccetera. Ma per lì è stata una cosa buona, poi dopo le tangenti sono aumentate, i finanziamenti lesici ci sono ancora, insomma solo il risultato qual è stato? Abbiamo distrutto i partiti storici, socialisti, liberali, repubblicani, insomma quello è un po' mi dispiace come simpatizzante socialista. Erano bene per l'Italia o sono responsabili, come si dice, dell'enorme nostro debito pubblico iniziale? Sì, sono responsabili per sugli ultimi tempi di un certo debito pubblico che è cresciuto a dismisura, però hanno anche dei meriti storici molto importanti, voglio dire, hanno ricostruito questo paese. In 15 anni l'Italia è diventata una potenza economica dal 45 al 60. Se noi ci pensiamo, in 15 anni hanno fatto uno straordinario miracolo con tutti i loro difetti. Noi invece negli ultimi 20 anni abbiamo fatto un disastro. Sì, sintetico, un voto a Di Maio e un voto alla Raggi. Un voto a Di Maio, 8. Un voto a Virginia Raggi, 7. Perché 7 quando tanti criticano Virginia Raggi per Roma? Lei da Romano perché gli da 7? Perché io so che non è tutta colpa di Virginia Raggi. Io ricordo una volta l'attuale sindaco, non so se è ancora sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, che era mio compagno di banco, dall'altra parte c'era Cirinna, e mi disse Enrico, io ho un problema, era stato chiamato da Rutelli a fare una sorta di assessore aggiunto. Insomma lui mi disse che erano tre giorni che cercava tre operai con tre pale e tre picconi. E' capito? Il sindaco può cambiare, gli assessori possono cambiare, ma se non cambia la macchina sotto le ripartizioni... Io però capisco che lei rimane nonostante tutto un uomo di sinistra. Ma un uomo di sinistra come lei, se dovesse scegliere tra Salvini e Renzi? Ma io non credo più adesso a di sinistra e di destra. Io stavo dicendo, facevo gli comizi spettacoli, no? Allora faccia un nome dei due. Lei salva Salvini nel gioco della torre, tra Salvini e Renzi? Penso che salvo Salvini, sì. Senta, allora invece parliamo della destra storica. Questo è Mussolini, destra-destra, il fascismo. Intanto cosa pensa di lui? Io penso che lui sia stato un uomo che voleva bene agli italiani, voleva aiutare gli italiani, ma ha una macchia indelebile troppo grave. Le leggi razziste, le leggi razziali. Su questo non lo perdono. E' essersi alleato con un pazzo furioso e portato l'Italia in guerra. Lui sapeva benissimo che non eravamo in grado. Voleva solo stare al tavolo della pace, pensando che il caporale pazzo con i baffetti avesse vinto. Ma la macchia delle leggi razziali e della dichiarazione di guerra sono... Senta, io ho letto in una sua intervista che lei ha raccontato una cosa che mi ha incuriosito. Subito dopo la guerra, suo padre e suo zio vanno in giro per Roma con una fisarmonica cantando giovinezza, ma erano due matti? No, non erano per strada, in casa. L'ho raccontato nel libro Confesso, io ho scritto un libro Confesso, una confessione. Zio Beniamino e mio papà suonavano la fisarmonica e suonavano delle canzonette. Mio papà, che però... Mio padre era fascista, mia madre no. Mio madre era socialista, repubblicana, non me lo ricordo. A un certo punto però papà veniva colto dall'entusiasmo e attaccava Davinezza, giovine... Mio zio Beniamino iniziava, ma che ce l'ho a fare, sta a tutti, chiudi le finestre, fermate! Insomma, lo sfottevano un po'. Questo è Crozza, le piace? Bravo, ha delle belle battute, certe volte non le dice proprio tanto bene. Io da attor comico penso che le potrebbe dire meglio. Cioè? No, c'ha le battute molto belle, ma la battuta è difficile da dire. Se non hai i tempi giusti, però lui è bravo. Scrive meglio di quanto non reciti, diciamo. Sì, forse sì. Senta, a proposito di Satira Politica, io ho letto una serie di articoli critici nei suoi confronti perché sostenevano che durante il periodo berlusconiano lei avesse sostanzialmente smesso di farla. Perché? Perché tutti facevano la critica a Berlusconi, era un'anime, era proprio, era troppo. Scontato? Sì, anch'io mi metto a prendere in giro Berlusconi, basta, non si può sparare a sua Croce Rossa. E oggi se dovesse ricominciare a fare Satira Politica, con chi se la prenderebbe? Ma sicuramente la politica Satira si fa sempre verso chi sta al potere e al governo. Bisognerebbe trovare e colpire i difetti, ma già ci pensa Crozza e tutti questi altri sono bravi. Cioè Salvini, Di Maio, Conte, certo, ha voglia di dirne. Senta, a cosa pensa di Benigni che difendeva la Costituzione dicendo che era la più bella del mondo e poi quando Renzi ha provato a cambiarla, dopo aver detto che non gli piaceva, ha cambiato di nuovo idea e ha detto sì, perfetto, cambiamola. Ebbene, come tutti noi, cade in contraddizione. Questo è Carlo Verdone. Con lei, con Carlo Verdone, ha fatto un film bellissimo. I due carabinieri, eravate amici, ma dopo il film la vostra amicizia è finita. Ci spiega perché? No, non è finita. Carlo è rimasto un po' male, però per esempio io sono andato a trovarlo circa un mesetto fa. È rimasto un po' male per cosa? È rimasto un po' male per alcune cose. Lui ha detto che lavorare con me era un po' faticoso e difficile, ma lui, essendo un uomo di mondo e un regista, lo sa, quando c'è un attore con una sua personalità, certo trovare un incontro è un pochino più difficile, bisogna un po' dividersi il terreno. Ma io ho letto che ci sono stati problemi durante il montaggio del film. Sì, ma probabilmente... Era saltato qualcosa. Esatto, ho capito che non era responsabilità di Carlo. Cioè spieghi cos'è, così almeno capiamo. Quando si gira e si fanno delle cose, poi si va al montaggio, quelle cose divertenti non le trovi, io rimasi male, interpellai il produttore, il produttore Mario Gori venne, guardò i cosiddetti tagli, tutti i rotoletti una volta con la pellicola, dice vediamo un po', e lui dice ma questo è bello. Carlo rimase anche un po' disorientato. Io ho capito che quelli che stanno intorno al regista, la persona famosa, conosciuta, vogliono essere più realisti del re. Allora per piageria verso Carlo, che era attore comico come me e in più regista, tolsero qualche cosa di mio, che però a onore del vero Carlo ha rimesso. Quindi superato questo periodo di... Ora noi siamo amici, io sono andato a trovarlo, lui è molto carino, chiama sempre mio figlio, uno dei miei figli che fa l'operatore, quindi non abbiamo screzzi Carlo ed io, anzi mi piacerebbe fare un film con lui. Io comunque ho un'impressione, lei ha fatto delle cose straordinarie, nella mente di tanti italiani che se lo ricordano, però io ho l'impressione che lei si senta un po' in credito rispetto. Cioè, in fondo, lei pensa che, mi dà la sensazione che lei pensa, io sono stato molto bravo, ho fatto le cose importantissime, ma avrei dovuto avere di più. Non ci so fare. Quello che sto dicendo ai miei figli, che adesso fanno tutti e due, ahimè l'Accademia Falte Drammatica Silvio D'Amico, alle volte più che essere bravi bisogna avere buone relazioni. Studia meno le battute, telefona di più agli amici, ai conoscenti, ai produttori. Lei non frequentava i salotti, in fondo un po' di... Un po' sì, negli anni Ottanta sì, siamo stati un po'... Poi però lì, un pochino, poi è cambiato tutto e quindi... Ma io ho sempre pensato che bastava essere dei buoni professionisti, però certo, oggi purtroppo, se il principio che bige è che i foderi combattono e le spade stanno a casa, allora è bene che io stia a casa. Senta, ma oggi fa poco cinema, anzi quasi più, come mai? Non la chiamano o è lei che ha scelto? Mi hanno chiamato per fare una serie di film troppo commerciali, cioè dopo aver avuto gli anni 70, dopo il 68 e poi, un tale stimolo incitato a fare delle cose migliori, posso andare a fare ladri pompieri, ladri, guai roba là... Gli ho detto di no e da quel momento poi non mi hanno più chiamato. Quell'altro tipo di cinema, forse ci considera attori comici di cassetta, popolari, quindi... Però mi sono dedicato al teatro, perché come mi diceva Pietro Carinemi, diceva Enrico, tu pensi che il teatro sia meno importante del cinema? Non è vero, guarda che poi il teatro non ti abbandonerà mai. Vero, poi ne parleremo ancora, però invece io voglio parlare dei suoi colleghi, alcuni dei quali non parlano bene di lei. Alessandro Benvenuti, in un'intervista ha detto Montesano è una persona che ha tanti problemi, problemi seri, è un infelicitatore, uno che porta infelicità sul lavoro. Insomma, cosa hai detto? È un'intervista che lui ha fatto sul fatto. Sì. Ma no, è una sua opinione personale. Questo è evidente. Che non è assolutamente rispondente. Intanto Benvenuti è un regista ostinato, si è autopromosso regista, ma non credo che lo sia. È un discreto attore, io l'ho conosciuto quando c'era ancora nei Giancattivi Paolo Nativi, quello vestito da Pierrot, a Firenze, in un teatrino cabaret, che poi è morto e è stato sostituito da Francesco Nuti. Forse lui ha la sindrome di Nuti, che era il comico del teatro, e io mi ricordo che quando Cecchicori ci mise insieme e mi costrinse a fare il toscano, io volevo nella rabbia, per la rabbia, girare una forchetta con la forchetta storta, io sono una persona della... lui si intignò, la forchetta la voleva che io la girassi a tortiglione così. L'hanno fatto due macchinisti con le pinze. E io gli dissi, senti, Alessà, tu sei normale. Quindi lui forse si è un po' voluto vendicare. Ma io sto benissimo, non sono un infelicitatore. Lui invece, la prima sera che ci riunimmo tutti a cena, c'erano i produttori, c'ero io, c'era mia moglie, arrivò tre quarti d'ora dopo perché si era andata a fare i massaggi. Quindi se io so infelicitatore, lui è un cafone. Senta, cosa pensa invece di Gigi Proietti? È il più grande o no? È uno dei più bravi, non il più grande. Perché tra i più bravi c'è anche lei. È uno dei... ma allora è bravo Verdone. Eh, voglio dire, è bravo Benigni, ce ne sono di attori bravi. Però Gigi Proietti ha una straordinaria tecnica, è una grande presenza scenica, ha una bellissima voce. Senta, forse perché lei è così schietto, lei una volta ha detto una frase che mi ha colpito. L'amicizia è una cosa rara e io mi sento spesso abbandonato dagli amici. Ma io ne ho avuti pochi. Io purtroppo sono stato sette anni in collegio, ho avuto molti compagni, pochi amici. Gli amici veri, io forse perché do un valore vero alla parola amicizia, come per esempio, dice, ma tu non ti fai la comunione. No, perché se tu credi veramente nella cosa, lo devi fare con purezza di spirito. Non è che vado lì a mangiare un pasticcino. Così l'amicizia, se è una cosa seria, una cosa sacra... Cioè, però, per sicuro... Ma nel mondo dello spettacolo c'è così tanta falsità, come si dice? Io non credo che ci siano grandi amicizie nel mondo dello spettacolo. Va bene quando ci sono delle sincere reciproche ostime, scevre da invidie, da sincere, insomma. Perché io quando incontravo Villaggio mi guardava e mi diceva perché non mi chiami mai? Mi diceva lui a me. Io dico, ma pure tu, Paolo, non mi telefoni mai. Telefona a me pure tu. Cioè, sono pochi gli amici veri. Ma che uomo era Villaggio? Io l'ho sempre amato, gli ho sempre voluto bene. Ho sempre detto che avrei voluto un fratello maggiore come lui. Lui mi ha sempre fatto ridere. Io lo trovavo intelligentissimo, mai banale, sempre ironico. Però arrivate timidi e non vi telefonevate. No, mi faceva ridere. Però io sono andato una volta a trovarlo. Ho fatto la strada insieme a lui, l'ho accompagnato in camerino. Lui già camminava piano, era un po' già pesato. Però si è seduta, ha fatto un'ora e mezza di spettacolo straordinario. Un po' come era Paolo Panelli. Questi uomini che hanno un'intelligenza viva, non sono banali, sono sempre ironici, intelligenti ed è merce rara. Senta, Prezzo la rivediamo a teatro con il Conte Tacchia. Conte Tacchia che farà una tournée perché noi ce lo siamo autoprodotto e non riceviamo finanziamento pubblico. Quindi andiamo in tournée, ce ne andiamo a Bolzano, Udine, Bologna, Firenze e poi scendiamo giù a Reggio. Grazie. Senta, questo è il momento della confezione. Adesso lei guarda in camera. Lei ha un minuto per dire una cosa a Carlo Verdone, che possibilmente non gli abbia mai detto, iniziando caro Carlo. Caro Carlo, sono contento che la confezione la debbo fare a te perché tu sai che ci conosciamo da tanto, amiamo la stessa campagna dove tuo papà e tua mamma hanno la casa e io casualmente comperai quel pezzetto di terra nello stesso paese dove tuo papà e tua mamma c'erano la casa. Ma io l'ho comprato per motivi poetici perché il nostro paesino è nominato da Cesare Pascarella nel bello poema epico amato da Pasolini che si chiamava Villa Gloria. poi ci siamo incontrati in un paio di film tu hai sempre fatto delle caratterizzazioni divertenti io pure poi ci siamo incontrati nei tuoi carabinieri diciamo che la cosa allora non sapevo di fare la confessione a te l'ho detta prima ho capito che non eri tu chi ti circonda è sempre più realista del re voleva per piageria farsi bello che tu sei sempre stato una persona corretta, lineare però quello che ti voglio chiedere a Garlo ma perché non mi hai più chiamato manco una orta? io sto qua e se vuoi vengo